Benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie come punto la grande stagione del Napoli viene osannata anche da Guardiola, che mette nel mirino uno dei fuoriclasse azzurri per il Manchester City. L'annata del Napoli non passa inosservata né in Italia né all'estero. Gli azzurri stanno letteralmente stracciando il campionato e si stanno avvicinando a un meritato scudetto a suon di vittorie e con un gioco che conquista molti appassionati e addetti ai lavori. Tra questi, c'è anche Pep Guardiola.Manchester City schiaccia sassi, ma Guardiola teme il Napoli, i complimenti agli azzurri. L'allenatore del Manchester City, a sua volta, può contare su una squadra che sta facendo grandi cose. In campionato, quest'anno per i campioni d'Inghilterra non sarà facile, con un Arsenal scatenato e che vuole detronizzarli, ma in Europa, rendimento alla mano, potrebbe essere l'anno buono per i citizens. La pratica Lipsia, negli ottavi di finale, è stata liquidata al ritorno, dopo l'1-1 dell'andata, con disarmante facilità. Il 7-0 conclusivo fa impressione, con ben 5 reti realizzate da quel fenomeno di Erling Haaland. Il norvegese scrive quota 39 gol in 36 presenze e dà la sensazione di poter incrementare notevolmente la cifra. Tuttavia, nel post-partita, Guardiola non abbassa la guardia e sostiene che tra le rivali da cui guardarsi, in Champions, c'è anche il Napoli. Il Napoli in questo momento forse è la squadra più forte d'Europa, come qualità di gioco è vicina all'Arsenal. Pre-tattica o parere convinto, lo scopriremo forse più avanti. Di sicuro, il City sarebbe avversario scomodo davvero per tutti, in un eventuale sorteggio ai quarti di finale e anche per gli ottimi azzurri di quest'anno potrebbe essere un rivale fuori scala. Ma c'è un altro motivo per cui gli inglesi guardano con interesse ai partenopei, ed è per un preciso obiettivo di mercato. Infatti, secondo Sky Sports, il Manchester City sarebbe intenzionato a iscriversi alla corsa per Victor Ousimen. Il nigeriano, grande protagonista fin qui in azzurro, sta trascinando la sua squadra a suon di reti, 21 totali tra campionato e Champions. Tra le pretendenti, si era segnalato principalmente il Manchester United, ma i cugini intendono irrompere sulla scena. Questo, nonostante a disposizione di Guardiola ci siano già lo stratosferico Allende e Julian Alvarez. Il tecnico spagnolo sogna, evidentemente, quello che sarebbe a dir poco un reparto avanzato ingiocabile per chiunque. Per ora, il giocatore pensa solo a concludere la stagione al meglio con il Napoli, con il probabile Scudetto e, chissà, con altre soddisfazioni europee. Poi, si vedrà.gazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.